ragazzi ho visto che è morto akira toriyama e non me ne frega un cazzo ciao bello benvenuto venga nettoonizer di quella puttana... ma c'è tutto... ma tutto cosi oltre allo streamer faccio sì 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 io lavoro in un maneggio qua vicino e praticamente quando gli arrivano gli nascono dei cavalli bianchi il mio compito è quello di pitturare delle strisce nere per poi venderli ai circhi e spacciarli per zebbre parca di quella puttana... io spero che tua madre te lo infila nel culo quel martello stasera quando torni a casa pezzo di doxxar l'officio 39 mesi però pure l'herry e l'oury come cazzo si chiamano f*** fan veramente male e lo so però lo faccio perché so stronzo questo è cristo di dio è cristo di dio questo le ali sono la mobility quindi parca parca pezzo di merda pezzo di merda e poi adesso che era il cazzo in due dai 8000 e 10 trofei è questa cosa non ci credo che cosa mi sto cercando ma non so dove sia almeno no 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 Calvi, sono tornato, Calvi? Ciao a tutti ragazzi, sono qui in compagnia di un personaggio che conoscete sicuramente e non solo, non è un caso, insieme a me anche il nuovissimo set in base delle Magic Espansione Signore degli Anetti. Come vedete ragazzi è uscito oggi e contiene due mazzi perfetti per iniziare a giocare se non siete tanto bravi o se volete avvicinarvi a questo mal vi invito a provarlo e a scoprire tutte le potenzialità e obiettie a seguire la pagina di Magic Italia, giusto? Tu devi seguire, non so perché parli, non so perché il ganjal parli come se fosse un kebabbaro. Non è vero, non è vero, di cosa è morto? ! Non sono stante! Oh ragazzi io non so... Ahhhh! dai raga però non così raga ai raga mi sono caduto addosso io ho una posizione veramente interessante galera puttana Sergio fai il bravo Sergio fai il bravo Sergio e prendi il cazzo Sergio a sergio ma vattene a pigliando il c***o l'hai voluto tu Thomas l'hai voluto tu Gillette ready for the 15 kill win this is the game this is my game vamos alla playa a me me gusta bailar possono fare senza una viola ho vincito no 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 è giusto che ti ride è giusto che ti ride giusto che ti cazzo ne so di chi fosse donato poi mai detto quello lì guardava caro come cazzo si chiama con lo ciccione il bavaro eh si ha detto ma l'altro giorno mi è capitato che si sbocciava tutta la camicia ma che c***o fai ma ho chiuso o deblocca tutto non farmi più vedere nessun contenuto stai buscendo arrivo si cristo non era un non era un impulso che cosa c***o ho appena visto ha lasciato una gringer per impulsare scusami merda 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 allora allora no allora un seg... nooo ah allora piano aspetta aspetta aaaah ci sta ci sta no è corretto è corretto è corretto lo faccio cagare è morto quella fottuta di tua madre mi dicono lei sai cosa c'ha bisogno? le fan freestyle le man a cappella scusi un attimo le mani fatti freestyle? no non glielo mai fare lei sa farlo il freestyle mi faccio un freestyle non è semplice serve tipo capito? nella base musicale pazzo oh suderone un cazzo di animale stiamo facendo un duo e sesso anale che spaccolano mi prendo il culo mi mando il culo pazzo brutta troia non ci porco di ass credere mannaggia di quella troia porca troia porca troia porca troia mi devi succhiare mi devi succhiare pezzo di ma non può giocarli gli ha giocati un'altra hit ti prego arca puttana sono già andato in 200 porca allora faccio l'ultimo poi vi saluto raga della storia on on clash e poi e poi i say Grazie a tutti.